Buonasera e bentrovati all'appuntamento odierno. Mentre persistono gli ormai soliti timori sulle mosse della Fed e sulla variante Omicron, gli investitori oggi si sono concentrati sulle vendite. Tra i fattori più incisivi c'è anche il rialzo dei rendimenti dei bond. Il Fuzzimib aveva aperto malissimo la seduta, poi nel resto della giornata c'è stato un rialzo parziale ma il passivo finale è dello 0,74%. Il DAX invece arriva a superare il punto percentuale con un quadro grafico simile a quello milanese. Affonda invece Wall Street, i rialzi dei bond hanno colpito anche qui. Se il Dow Jones si sta avvicinando al punto e mezzo di passivo ma non lo sta raggiungendo, il Nasdaq sta accusando un calo ancora più pesante visto che è prossimo almeno due. Tornando a Piazza Affari, dopo il timido progresso di ieri, Dia Sorin crolla sui minimi di giugno, aggiudicandosi peggior performance del Fuzzimib. Debole Telecom che bissa la seduta precedente registrando un calo del 3,20%. In scia i rumors già resi noti che riguardano l'indebolimento dell'offerta sul fondo KKR. Chiudono appaiati Prismiam, Saipem in controtendenza rispetto al settore e Banca Generale intorno al meno 2,70%. I titoli legati al petrolio che avanzano e si mettono in evidenza tra i migliori sono Tenaris che scatta sopra il più 2% e Deni, più staccato, si avvicina al mezzo punto di progresso. Ben comprata a Generali, più nel 48% nel giorno del CDA. Continua il trend a rialzo per Leonardo, mentre tra i bancari si mette in salvo dalle vendite Unicredit. Entrambi i titoli, appena citati, superano il mezzo punto di crescita. Ed ora il Forex. Eurodollaro, che ieri si trovava a quota 1,14, crolla progressivamente nel pomeriggio. Ora si sta muovendo in area 1,13 e 30. Altrettanto pesante è il ribasso dell'euro yen, cross sceso sotto i 130. Eurosterlina perde anch'esso, ma con un calo più moderato. E ora, prima di chiudere, ascoltiamo il parere del trader Francesco Serafini. Salve a tutti per le interviste di Traderlink, ospite di oggi Francesco Serafini, fondatore di fintaxi.com e trader indipendente. Allora, stiamo guardando quello che sta accadendo su Wall Street da qualche tempo. Lascio però comunque analisi e considerazioni a te. Grazie Rossana, buongiorno a te e a tutte le persone che ci seguono. Brutto risveglio oggi per le principali piazze europee, con gli indici che stanno perdendo oltre il punto percentuale in una debolezza generalizzata che sta trascinando al ribasso anche i mercati americani che ieri sono rimasti chiusi per il Martin Luther King Day. E allora guardiamo proprio quest'ultimo, in particolar modo l'S&P 500, che è da sempre il benchmark di riferimento per gli indici azionari mondiali. Questo mercato è in un trend di lungo e medio periodo assolutamente rialzista, stiamo vedendo però che nelle ultime sedute il mercato effettivamente sta facendo un po' di fatica andando a disegnare delle sequenze di massimi e minimi decrescenti. Però c'è da dire che questo ribasso ha riportato il mercato in un'area decisamente interessante dove vi è un'area supportiva sia statica che dinamica proprio con queste trend linee e nere che ho disegnato che vanno a rimarcare il canale rialzista. E quindi il pensiero è che qui ci possa essere una buy opportunity e che questo mercato possa da quest'area, quindi l'area intorno ai 4.580, 4.560, possa essere appunto un'area buy opportunity che possa riportare il mercato ad andare a testare i 4.665, 4.675 come primo target ed eventualmente la rottura di questa trend line discendente potrebbe portare lo stesso ad andare a testare un'area di resistenza decisamente più importante che è quella dei 4.730, 4.750. Quindi il pensiero è che questo mercato possa ripartire e rimanere in quello che è appunto il trend di lungo e medio periodo. Qualora invece dovesse essere abbandonata quest'area, il segnale a livello tecnico sarebbe decisamente negativo perché andremo a rompere tra l'altro questo minimo che è anche il minimo settimanale e andrebbe comunque appunto ad intaccare un quadro che fino a questo momento è assolutamente inalterato e ancora rialzista. Prima di chiudere vado a fare anche una rapida, riprendere l'analisi della scorsa settimana per vedere che cosa è poi accaduto. Abbiamo visto come il mercato effettivamente da quest'area sembrava insomma che potesse ripartire andando a segnalare un target intorno 15.900-16.000 punti, effettivamente questo target è stato perfettamente raggiunto e adesso il mercato sta ritracciando. Anche in questo caso nonostante ci sia una debolezza superiore sicuramente rispetto alle S&P 500, il pensiero però è che il mercato possa ripartire andando a centrare quello che è il target segnalato in area 16.250 punti. Fondamentale anche in questo caso sarà la tenuta di quest'area supportiva che è molto molto importante e che se abbandonata potrebbe dare il via ad ulteriori accelerazioni ribassiste. Perfetto Francesco, io ti ringrazio per le informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi. Si chiude così questa edizione, vi ringrazio per la visione e vi ricordo che per rimanere sempre informati e consultare tutti i nostri contenuti potete iscrivervi al canale YouTube di Traderlink, su Traderlink Web e sulla nostra app. Grazie e arrivederci a domani.